due parole viene definito il rapporto beneficio rischio di un farmaco cioè quanto quanto ci aspettiamo di vantaggi terapeutici da una parte e quali sono i rischi che il farmaco possa fare male quando il farmaco equivalente quando arriva sul mercato il suo rapporto di beneficio rischio inteso come molecola e ben consolidato quindi possiamo da questo punto di vista possiamo star tranquilli dobbiamo stare attenti a che magari una diversa composizione farmaceutica possa portare qualche problema specifico però diciamo poi rispetto alla in generale al rapporto rischio beneficio del principio attivo è ovvio che noi diciamo che abbiamo già una conoscenza ampia del farmaco nel momento in cui arrivano gli equivalenti sul mercato certo certo e oltre alla qualità e la sicurezza tra l'altro nel momento in cui si prepara il dossier per un per un generico salta fuori anche un nuovo concetto rispetto al farmaco di marca che è la bioequivalenza si si vuole spiegare velocemente la parola e allora riallacciandoci un po quello che avevo detto in precedenza il farmaco generico e poi anche quello che diceva luigi il farmaco generico non deve rifare una diciamo una serie completa di prove di efficacia per arrivare sul mercato sarebbe non etico prima di tutto oltre che poco utile sotto tutti i punti di vista però è ovvio che noi dobbiamo avere delle prove surrogate di efficacia che sono comunque una sorta di scorciatoia per il farmaco generico quindi come si ragiona allora se il farmaco equivalente una volta assunto dal paziente raggiunge nell'organismo gli stessi livelli di concentrazione e quindi diciamo nell'organismo ma poi noi per comodità questi livelli di concentrazione li andiamo a misurare nel sangue quindi se ci sono se c'è un'uguaglianza di o diciamo statistica no di eh nei livelli di concentrazione plasmati quindi tanto farmaco c'è tanto effetto farmaceutico e farmacologico per meglio di terapeutico io mi aspetto quindi anziché misurare l'efficacia terapeutica io misuro i livelli plasmatici se i livelli plasmatici sono statisticamente sovrapponibili rispetto a quelli dell'originator io mi aspetto che ci sarà anche un uguale efficacia terapeutica quindi è una cosiddetta dimostrazione surrogata di eh di di efficacia che però è molto più semplice no? Si si fanno questi esperimenti che vengono detti test di bioequivalenza per cui eh uno stesso gruppo di eh di soggetti che poi in genere sono volontari sani assume il farmaco originator o il farmaco diciamo prima il farmaco originator e dopo un po' di tempo il farmaco equivalente o viceversa no? Quindi c'è una un incrocio e poi dopo in questo stesso soggetto si misurano i livelli di concentrazioni plasmatiche che conseguono la somministrazione di un farmaco e dell'altro chiaramente il soggetto è sempre lo stesso per cui noi possiamo vedere le diciamo le concentrazioni plasmatiche confrontare nello stesso soggetto di quanto si sovrappongono questi valori. Per evitare una variabilità intrinseca delle persone. Quindi poi ovviamente un unico soggetto non è non fa test una rondine non fa primavera c'è sempre una certa numerosità richiesta per fare questi esperimenti però alla fine noi abbiamo una eh diciamo una prova di equivalenza di concentrazioni plasmatiche che chiamiamo che chiamiamo bioequivalenza. Perché si fa? Se il farmaco equivalente avesse esattamente la stessa composizione non solo in principi attivi ma anche in eccipienti fosse del tutto identico rispetto all'originator noi ci aspetteremmo come dire una ampia sovrapposizione no? Però dato che appunto io dicevo prima ci può essere qualcosa che cambia no? Può essere un eccipiente no? Allora noi dobbiamo avere la sicurezza che la diversa eh composizione farmaceutica però non impatti su processo di assorbimento e la la diciamo i livelli di farmaco che poi arrivano in circolo e quindi eh viene richiesto questo test obbligatoriamente quindi diciamo nel nel dossier registrativo ci deve essere questo studio di bioequivalenza che deve dimostrare la bioequivalenza rispetto al farmaco originator e questo si fa tutte le volte in cui come dire c'è un processo di assorbimento quindi per cui ci possono essere delle differenze nei livelli di farmaco che arrivano nella nell'organismo. Il test di equivalenza di bioequivalenza non è nemmeno necessario nel caso in cui per esempio noi abbiamo una eh questo forse un attimino più complicato come concetto però eh un generico di un farmaco iniettabile endovena non deve fare un test di equivalenza perché va direttamente tutto il farmaco che c'è nella fiala arriva in circolo. Non si sbaglia no? Quindi eh ovviamente il test di bioequivalenza è necessario solo in quei casi in cui possiamo pensare che il processo di assorbimento possa introdurre delle differenze di comportamento cinetico fra l'originator e il farmaco equivalente. Grazie mille.